Allora, cominciamo con la vera premiazione ragazzi, il four play, passaggi trasloichi, ritira, Alessio, Alessio Passariello, vai Alessio! Un'improvvisata è al giocatore senior, no, il più vecchio! Al giocatore più vecchio di questo torneo, Mario Lopinto! E' vero Mario, fai l'interessa, è il più giovane! E' il più vecchio da te, eh? E' una fuggia Mario! E' al miglior portiere, Cantarelli Francesco! Sì! 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 Al miglior giocatore, Simone Morelli! Prema, premio! Amircale, Sananaro, Berta, due giornate! Due giornate! Due giornate! Al capo canoniere, Angeloni Marco! Prego signora, gira! Allora, cominciamo con il premio della terza squadra, caffetteria Eramo! Grazie! Grazie! Complimenti! Sì! No! Sì! Sì! Vieni, vieni, vieni! Mi chiamano colorini! Dai, vai! Va bene! Eh, lo so, va bene, dai! Va bene! Ma lui ti prende la prima! Vai, vai! Grazie! Seconda classificata, secondo premio Locala Graticola, premio Battisti Mauro. E al primo premio... Prego, chiedo al signore... Al sindaco Leonora La Penna, Giovannoli, Giuseppina e Gina... Ritira Manuel Loredi del primo posto! Grazie! 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 Grazie!